209 persone, più del doppio dello scorso anno, hanno voluto scoprire questo angolo di Arezzo che domina la città dalla collina di Poti. L'escursione Poti a piedi, organizzata da Mauro Valenti, patron della Fondazione Arezzo Wave Italia, in collaborazione con l'Associazione a piedi libere con il Calcit, ha visto dunque una partecipazione particolarmente ampia. Diventa così un appuntamento caro agli aretini per tornare su quei luoghi che parlano di estati felici e spensierate. La realtà di oggi è ben diversa, la camminata serve anche, oltre che a raccogliere i fondi per il Calcit, a lanciare l'ennesimo grido di allarme su questa montagna dimenticata. I ruderi del vecchio albergo e non solo, oltre che brutti da vedere, sono anche pericolosi e non transennati. Il percorso di circa 16 chilometri attraverso il sentiero del Cai partiva da Villa Severi fino a Poti, dove era stato allestito un punto di ristoro. Guarda, io posso dire che ieri è stata una bellissima giornata, una giornata dove abbiamo raddoppiato il numero di presenze e dove abbiamo fatto vedere a tutti i nostri amici, assieme agli organizzatori con noi a Piede Libero e del Calcit, di quanto Poti debba essere messa in sicurezza, perché sempre più famiglie scoprono questo posto, sempre più iniziative vanno a finire, finalmente, anche grazie a noi, in questa montagna sacra per gli aretini. Unica nota stonata di una giornata comunque piacevole, la concomitanza con una gara di mountain bike, la Rampichiana, che peraltro ha visto una partecipazione incredibile dopo lo stop del 2020. Peccato che proprio l'Alpe di Poti rappresentasse però il gran premio di montagna della gara e quindi questo ha causato una sorta di cortocircuito tra podisti e ciclisti. Il traffico veicolare, con le strade chiuse, manco a dirlo, è rimasto letteralmente inchiodato. Quello che dici da un punto di vista di logistica, ieri in effetti c'è stata una sovrapposizione di cose. Noi eravamo in questa settimana ormai da due anni, gli amici della Rampichiana hanno spostato di tre mesi e credo che il prossimo anno ritornino a marzo e quindi si è creato un ingolfo che chiaramente ha reso un po' complicato questo trasferimento. So che voi volevate venire e non siete stati in grado di poter arrivare e io mi auguro che in futuro queste cose si possano mettere in modo migliore per tutti quelli che amano svagarsi. Molti coloro insomma che ieri hanno lanciato anatemi contro chi, amministrazione comunale in primis, ha consentito la concomitanza delle due manifestazioni praticamente nella stessa collina. Su queste cose io penso che aiuti sempre il buonsenso. Certo se uno deve andare a Poti e deve fare un servizio, comunque abita a Poti credo che sia giusto come quando facevamo Arezzo Wave, davamo un pass per entrare a quelli che abitavano sopra lo stadio fare questa situazione, ma solitamente ad Arezzo c'è un grandissimo capo dei vigili che si chiama Poponcini che è un mio caro amico e che veramente è bravissimo. Per il resto sì, porca miseria, la prossima volta speriamo che ci sia meno confusione e che si possa andare tutti a Poti più facilmente.